Ciao a tutti, sono Giorgia e oggi sono qui per parlarvi delle notizie nerd dell'ultima settimana. Netflix ha fatto un sacco di annunci, tra cui la seconda stagione di Rostopper, che uscirà il 3 agosto, ma anche la sesta di Black Mirror. Ancora non è stata annunciata la data precisa, ma sarà disponibile da giugno. A giugno uscirà anche la terza stagione di The Witcher, l'ultima che vedrà Henry Cavill nei panni di Geralt. Netflix verrà divisa in due parti. I primi episodi usciranno il 25 di giugno, mentre la conclusione sarà disponibile dal 27 di luglio. Ci sono anche novità su film di Kraven il Cacciatore. Sarà il primo film Marvel-Sony ad essere vietato ai minori. La notizia è arrivata da CinemaCon di Las Vegas, in cui Sony ha mostrato il primo teaser trailer. Anna De Armas ha negato ufficialmente che prenderà il posto di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman nel progetto di Sea Universe di Gunn e Safran. Il 24 maggio uscirà la serie tv American Born Chinese, tratto dall'omonimo fumetto di Young, e sarà disponibile su Disney Plus con tutti i 8 gli episodi. Mentre nelle ultime settimane sono uscite anche alcuni trailer, tra cui quello della ballata del serpente dell'usignolo, spin-off della serie Hunger Games, anche questo tratto da un romanzo uscito qualche anno fa, e ci sono anche alcune novità riguardanti il fumetto. Nel momento in cui sto registrando è in corso il Comic-Con a Napoli, quindi sicuramente arriveranno tante novità anche da lì, ma ne parlerò la prossima settimana. Intanto, Sio ha annunciato la chiusura di Scottex Magazine, che è stato pubblicato da Shockdom dal 2005, e ha ufficializzato il primo progetto di GigaCiao, cioè la rivista Scottex Gigazin. Uscirà il primo numero il 5 di luglio, e conterrà storie di Sio, ma anche di Apanda Piace, di Giacomo Bevilacqua, una rubrica di Fra Frog e una nuova serie fantasy di Dado. Mentre per i fumetti che potete trovare in fumetteria da questa settimana, Panini Comics ha pubblicato The Witcher Ronin, sia nell'edizione graphic novel che nell'edizione manga. L'edizione graphic novel costa 18 euro, e viene presentata in questo modo. L'universo di The Witcher incontra il folklore giapponese, una nuova storia in cui Geralt è un Ronin che si aggira per il Giappone medievale, tra Kappa, Tengu e altre creature leggendarie. Il Witcher sta dando la caccia a qualcuno, e questo lo porterà a prendere difficili decisioni, ma necessarie per raggiungere il suo scopo, perché la posta in gioco è davvero alta. Esiste anche, come dicevo, una versione manga della stessa storia, e il primo numero costa 7 euro. Poi è stato pubblicato anche il primo numero della versione deluxe delle tartarughe ninja, al prezzo di 38 euro, per la prima volta in volume le storie che hanno dato inizio alla rinascita fumettistica delle tartarughe ninja, le origini dei nostri eroi e di Splinter, l'arrivo di vecchio drago, l'entrata in scena del clan del piede, le prime avventure in solitaria di Raffaello e dei suoi fratelli, e molto altro ancora in un volume reso ancora più imperdibile da una storia breve inedita in Italia. Star Comics, invece, è il primo numero di Ranking of Kings, di cui avevo già parlato, al prezzo di 6,90 euro, manga in cui un principino sordo e ingenuo decide di raggiungere la vetta della classifica dei migliori re al mondo. Deve essere una serie molto ironica, è un popolare webmanga, sono curiosa di sentire le prime opinioni, visto che è appena uscito. È uscito anche il volume speciale di Sweet Paprika, Black, White and Pink, esiste in due versioni, la regular a 11,90 euro e la variant a 13,90, ed è un'antologia di storie inedite di autori differenti che hanno deciso di cimentarsi con questo personaggio. Per J-Pop è uscito invece Devil Lady 1, di Go Nagai, al prezzo di 12 euro. Durante una gita scolastica, Jun Fudo, all'apparenza una semplice insegnante delle scuole superiori, scopre di nascondere uno spaventoso segreto. Quando un gruppo di demoni dall'aspetto umano assale con violenza inaudita lei e le sue studentesse, la donna si difende trasformandosi distinto in Devil Lady. Un demone dalle qualità mostruose sotto ogni punto di vista. Nelle vesti di oscura eroina, Jun entra così a far parte della guerra segreta tra l'umanità e i Devil Beasts, creature inquietanti che si risvegliano spontaneamente nei corpi di alcuni esseri umani, i quali, al contrario della nostra eroina, perdono il controllo e si abbandonano ai propri istinti più reconditi e brutali. Il 3 maggio uscirà il Cinema Guardiani della Galassia Vol. 3, che chiuderà la trilogia di James Gunn, mentre il 10 maggio al cinema ci sarà The First Slam Dunk. Nelle prossime settimane ci saranno anche parecchi eventi. Nel weekend tra il 4 e il 7 maggio, più o meno, ci sarà a Firenze la città dei lettori, a Milano aprirà il pop-up ufficiale di Stranger Things, ci sarà anche il Catania Book Festival, il Festival della letturatura italiana a Monaco, Mag2Mag a Bologna dedicato al magazine indipendente e a Modena ci sarà la fiera della piccole e medie editoria, mentre dal 12 al 14 maggio l'ARF, il Festival del Fumetto a Roma. Per questa settimana ho concluso, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video!